Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, vi spiego come eliminare così tutti i file temporanei, file inutili, file proprio spazzatora che occupano così il tuo disco dove hai il tuo sistema operativo. Quindi in questo caso andiamo direttamente su pulizia disco, prendiamo così il nostro disco dove teniamo Windows. Mettiamo tutto, 856 megabyte e facciamo pulizia file di sistema. Ed ecco che è aumentato così lo spazio quindi ci clicchiamo sopra al temporaneo. Cache, file di risorsa di lingua e basta. 3,73 giga e facciamo ok. Dimensioni file. Una volta fatto andiamo direttamente su esegui, quindi scrivi qua sopra esegui, assicuriamoci di tenere così vediamo se ci sono dei file temporanei nella cartella temp, quindi vai a scrivere per cento qua, shift, il tasto shift a sinistra più 5 per fare per cento. Adesso vai a scrivere tempo e metti un altro per cento e fai ok ed ecco altri file temporanei vediamo cosa cosa ci fa cancellare facciamo ignora alcuni file non ce li fa cancellare quindi faccio ignora. Ed eccoli qua. Se non dovesse bastare in descrizione ti ho lasciato il link che ti porterà sulla pagina di bleach bit un'ottima applicazione per eliminare file che non ti servono file spazzatura quindi questo è il sito schiaccia su windows ti scaricherà così il driver quindi ti scaricherà così il programma lo vai a installare. Una volta installato entriamo in bleach bit selezioniamo così i file da eliminare quindi vai scendi fino a giù nel trovare internet explore cancella cache microsoft edge archivio cache canzione approfondita file temporanei sistema file temporanei cestino windows defender file temporanei winrar vabbè queste sono le altre applicazioni che tengo installato su windows e file pulisci ed eccole qua file eliminati 594 operazioni speciali 4 e dice errori 49 vabbè chiudi qua e riavvia il tuo sistema basta l'hai fatto è eliminato così file temporanei eliminato così fai spazzatura tutti i file che hanno riempito così lo spazio sul tuo disco locale c quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao